I 200 anni della nascita di Giuseppe Verdi sono stati oggetto di numerose iniziative e festeggiamenti anche a Napoli ed in questo quadro si inserisce un originale quanto pregiato omaggio del Conservatorio San Pietro a Maiella che ha organizzato per il prossimo giovedì 10 ottobre un doppio appuntamento serale e notturno che comincerà alle 23 nella sala Scarlatti con l'esecuzione delle più belle pagine del repertorio verdiano per proseguire dalle due in poi con la messa di Requiem eseguita in collegamento streaming dalla Chicago Symphony Orchestra diretta da Riccardo Muti. Sarà una notte tutta verdiana, protagonisti saranno gli allievi del conservatorio, gli ex allievi e i docenti che si alterneranno in un repertorio tutto verdiano, a cominciare dai codi verdiani dalle aree fatte da Traviata, Rigoletto, Fastaf, Attila eccetera e il famoso portetto per archi che Giuseppe Verdi ha scritto appunto per il Conservatorio di Musica di Napoli. Una notte per Verdi è il titolo della serata ed è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo dove è stato ricordato lo stretto rapporto del musicista con la città di Napoli ed in particolare con il Conservatorio. La musica è l'anima di Napoli e la notte per Verdi che il Conservatorio organizza il 10 sia un'altra pagina importante di questa grande e straordinaria forza e vitalità che Napoli dimostra, questa grande passione culturale e civile che in ogni caso nonostante le difficoltà vede impegnati come nel caso del Conservatorio i docenti ma soprattutto anche i giovani che attraverso il loro talento danno un'immagine di Napoli che è degna di rispetto, quindi di tutto ciò siamo veramente fieri.